Pippo Franco attacca Virginia Raffaele, si vede che non è cattolica. Punto l'attore comico Pippo Franco in una lunga intervista concessa al sito Interis. It torna a parlare della vicenda Virginia Raffaele. La presentatrice in uno sketch fatto sul palco di Sanremo 2019 ha pronunciato per diverse volte la parola satana mentre imitava l'effetto di un discorotto riprodotto al contrario. Da quell'episodio sono scaturite molte polemiche sulla quali brevemente torna anche Pippo Franco, cattolico praticante che negli ultimi anni ha parlato molto spesso anche in pubblico della sia grande fede, la Raffaele è fra le comiche più brave oggi in circolazione. Detto questo, nessun artista cattolica avrebbe mai fatto quello sketch, per cui credo sia atea. Mi pare evidente. Un cristiano sa di cosa parliamo, punto parlando della sua fede Pippo Franco aggiunge, «Io sono sempre stato convertito». È vero, il successo tende a portati lontano dal senso della fede, cioè dall'umiltà. Io, però, ho sempre cercato di destrutturare il mio ego, stando attendo a non identificarmi col mio essere famoso, per cui non sono arrivato alla conversione, ci sono sempre stato dentro. Mentre prima vivevo la fede personalmente, con la maturità ho avvertito il dovere di parlarne, nella speranza di essere utile agli altri. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.